Allora, ciao ragazzi, parliamo di investimenti immobiliari, comprare casa oggi, se investire in immobili in questo momento, se comprare casa, cosa fare, cosa non fare, se è una forma di investimento, eccetera, eccetera. Prima di tutto mi sono messo una bella pila anche qua di libri, così anche io mi do l'aria da saputo, sai, perché se c'hai libri da parte o di dietro sei una persona saputa. Allora, comprare casa oggi, allora, se è fatto come forma di investimento, assolutamente no in questo momento, assolutamente no. Se devi comprare casa perché ci devi andare ad abitare, allora è un altro paio di maniche. Perché? Perché quando scoppia la bolla mobiliare, cioè quando scoppia la bolla, diciamo, a livello di... di comunque investimenti finanziari, azionari, eccetera, eccetera. Se si va, e si va, e siamo, si va verso un periodo di recessione, i prezzi degli immobili crolleranno. Dove crolleranno? In particolare in città, nelle grosse città e in particolare nelle zone di vacanza. La gente inizierà ad andare meno in vacanza, si muoverà, ci saranno meno compre e vendite. succederà più o meno quello che è successo nel 2008, dove poi, vi ricordate io quando ero ad Alicante, che vi facevo vedere che case che costavano 100.000 euro, poi erano andate a costare 25, 30, 35.000 euro. Quindi come forma di investimento è molto interessante, però non da fare in questo momento. Sicuramente i crolli maggiori si avranno dove c'è maggiore offerta di case. Io penso che nelle zone di vacanze della Spagna, del Portogallo in particolare, magari nell'Algarve e soprattutto le Canarie, anche dove hanno raggiunto i prezzi delle case, quotazioni folli, folli, folli. Vi ricordate io quando qualche anno fa vi feci vedere che con 30, 35.000 euro si comprava Tenerife. Oggi i prezzi sono diventati 3, 4 volte. Crolleranno della metà, ma tranquillamente, ma anche nelle grandi città, anche nelle grandi città. Gli immobili non subiranno un'amazzata a livello di paeselli, per dirti tipo il mio paesello, così. Ma nelle grandi città anche lì i prezzi sono fuori di testa. Magari non crolleranno nei posti centrali, perché comunque, sapete, chi ha i soldi ha sempre soldi. Ma sicuramente nelle città, nei posti turistici, ci sarà un abbassamento degli immobili pazzesco. Ci sarà comunque una contrazione, come c'è stata una contrazione adesso di vendite di auto, per dirti. Ci sarà anche a livello immobiliare, ma d'altronde sono cicli che si hanno sempre. Sia a livello borsistico, che sia a livello immobiliare. Quindi, dal mio punto di vista, se vi potete comprare una casa a vacanza, fra 2-3 anni ci saranno delle occasioni pazzesche in Portogallo. Ma anche non solo nel sud, dove sono andato ultimamente, nella zona sopra Porto, a Viana do Castello, ho visto un mare di costruzioni. Quelli ragazzi, se arriva la crisi, non vendono e devono svendere. Quindi c'è un'ottima opportunità di investimento. Se dovete comprare casa, e lo dovete fare come forma, ripeto, di investimento, aspettate 2-3 anni, dal mio punto di vista, chi ha degli immobili da vendere, è meglio che li venda non oggi, ma domani mattina. Magari anche rinunciando a qualcosina. Perché guardate che poi fra 2-3-4 anni, ragazzi, gli immobili scendono. A meno che, ovviamente, non hai bisogno di venderlo, a meno che non hai bisogno di monetizzare, a meno che tu hai comunque degli appartamenti, degli appartamenti non comunque, magari, nelle grandi città. Per esempio il Pompa ha 4-5 appartamenti, sapete che lui fa tutte queste situazioni, l'ho sentito l'altro giorno, purtroppo il Pompa non sta passando un periodo molto buono, ha problemi di cuore, compagnia varia, comunque vi saluto, appena si sistemerà, mi sa che si deve operare. Comunque anche lui mi diceva, guarda, Lambre, sicuramente nei paeselli non è che diminuiranno più di tanto, anche perché i prezzi sono già bassi. L'ammazzata si avranno nei posti turistici, si avranno nelle grandi città e compagnia varia. Ed è per questo che secondo me è importante fare una cosa del genere. Mi piacerebbe andare nel sud del Portogallo, io reputo il Portogallo oggi il posto più interessante, il posto più interessante perché? Perché le Canarie sono diventate un covo di vipere, mamma mia è una cosa che mi vengono i brividi solo a pensarci. e tutto il peggio è arrivato là. E oggi è interessante il discorso Portogallo, quindi andare io a vedere come è oggi la situazione dei prezzi, per poi confrontarla fra un paio di anni, sarebbe molto interessante fare un video confronto del genere. Cioè chi ha oggi in mente di investire? Non è male come idea, la mia idea di con 200.000 euro, con 100.000 euro smette di lavorare, perché se un domani le case crollano, come è successo ad Alicante, e uno ha una situazione monetaria, prendersi due o tre case lì e poi metterle in affitto, vuol dire veramente magari un domani vivere di rendita. Quindi sarebbe molto interessante fare questa cosa. Poi è chiaro che in una situazione del genere, se uno vuole comprare anche in Italia, la famosa parola rogito, mutui, sicuramente, sicuramente, i tassi rimarranno bassi per anni. Però, vi dico questo, io vedo una contrazione fortissima del mercato immobiliare, come succede sempre dopo che arriva una recessione. poi ovviamente il mercato si riprenderà fra tre e quattro anni. Però chi vuole comprare casa, penso che fra due o tre anni, si troveranno delle grandissime occasioni, in particolare in questi paesi che ho detto, sud della Spagna, Portogallo, eccetera, eccetera.